Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. In cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana con allerta arancio in varie zone della regione. Maltempo che provoca allagamento sulla statale 67 bis Tosco-Romagnola, temporaneamente chiusa al traffico tra il km 10 e 4 e il km 14 e 6, località Arnaccio. Allagamenti inoltre sulla statale 62 della Cisa dove troviamo senso unico alternato all'altezza di Caprigliola-Albiano. Per autostrade in A11 un km di coda per incidente verso Firenze tra Pia 11, Firenze Nord e Firenze Peretola restano inoltre code per traffico tra Pistoia e Bivo Colla 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili per incidente sale a 4 km la coda tra Ginestra e Scandici verso Firenze, restano inoltre rallentamenti tra la Strassigna e Firenze e Scandici. Careggio top posto rallentamenti per cantieri tra Vicarello e Bivo Sgc Fipili a 12 Colle Salvetti. Buon verso in Toscana Info un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropultane di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.